Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del Tg6 che apriamo con una importantissima operazione contro il narcotraffico di 15 arresti, 27 indagati e 100 kg di droga sequestrati dai carabinieri del NOE. Il bilancio dell'operazione è scattata questa mattina in Abruzzo, Marche e Sicilia nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla DDA dell'Aquila. Stroncato un vasto traffico di droga destinato ai locali della Movida notturna. Droga e Movida, un binomio non nuovo agli onori delle cronache. È proprio seguendo questo binomio che i carabinieri del NOE, coordinati dalla procura distrettuale antimafia di L'Aquila, hanno posto fine ad un vasto traffico di stupefacenti destinato anche a VIP della costa adriatica. Questa mattina è scattata l'operazione tra Abruzzo, Marche e Sicilia che ha portato all'esecuzione di 15 ordinanze di custodia cautelare, 3 in carcere, 12 ai domiciliari e al sequestro di ben 100 kg di droga stoccata in un garage di Montesilvano. L'inchiesta è stata denominata ai soliti ignoti e conta in totale 27 indagati. Un'indagine lunga e complessa partita dalle rivelazioni di un pentito esponente di una famiglia malavitosa pescarese. Tra gli investigatori c'è anche Sergio Di Caprio, il capitano ultimo protagonista dell'arresto nel 93 del boss di Cosa Nostra Totorina. È un'indagine che è durata parecchi mesi, piuttosto complessa anche perché ha riguardato dei soggetti, delle persone che non erano noti, non avevano precedenti penali. SUV, macchine sportive e moto di lusso. Erano i mezzi utilizzati come insospettabili magazzini di stoccaggio dello stupefacente, hashish, cocaina e marijuana. Poi c'erano anche delle autentiche basi mobili, auto di moda come smart e mini, depositi da confondere facilmente tra i mezzi parcheggiati lungo la costa adriatica nelle zone della Movida. I capitali illeciti provento dello spaccio venivano reinvestiti in veicoli anche di lusso e immobili, tra cui una villa con piscina. Tra la droga spacciata c'erano anche tipologie particolari come l'amnesia, nonché hashishinovuli, altamente tossico, dal contenuto di principio attivo anche 10 volte superiore allo standard di piazza abituale. La droga veniva spacciata attraverso vari canali. Il problema, quello che è stato interessante scoprire, sono stati i punti di stoccaggio, di nascondigli e il sistema che veniva usato per farla arrivare direttamente al consumatore, diciamo così, il più vicino possibile. E' stato arrestato dai carabinieri su ordinanza di custodia cautelare in carcere per stalking, violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. Si tratta di un romeno disoccupato di 40 anni che è accusato di aver vessato la moglie dalla quale si stava separando. Una connazionale con cui viveva a Teramo fino a rinchiuderla dentro casa e a usarle violenza per due volte. La vicenda è finita sul tavolo del PM Greta Aloisi dopo la denuncia della donna che ha riferito di essere stata costretta a trasferirsi a Bellante dopo aver chiesto la separazione stanca di maltrattamenti e botte. L'uomo non rassegnatosi a questa conclusione l'ha spesso inseguita e una volta individuata la sua abitazione era entrato in due distinte occasioni chiudendo le porte a chiave e abusando sessualmente della ex. Il magistrato ritenendo particolarmente grave il chiaro caso di stalking ha chiesto e ottenuto dal GIP del Tribunale di Teramo Paolo Andrea Bassallo l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. L'uomo è stato rinchiuso nella casa circondariale di Castrogno. Restano tutti ai domiciliari gli arrestati nell'ambito dell'inchiesta della magistratura aquilana su presunte mazzette per ottenere gli appalti per i puntellamenti nel post terremoto. L'inchiesta intanto si allarga. Nessuno sconto della magistratura per gli indagati dell'inchiesta Redder Azionem legata a presunte tangenti e truffe nell'affidamento degli appalti per i puntellamenti degli edifici lesionati nel post terremoto. Confermati dal GIP Gargarelle e domiciliari per i 5 arrestati accusati a vario titolo di corruzione, estorsione, subappalto irregolare, falsa fatturazione, truffa con fondi pubblici e abuso d'ufficio. Negate inoltre al giovane faccendiere coinvolto la revoca dell'obbligo di dimore e di firma. L'operazione, che complessivamente ha coinvolto altre 13 persone, tutte a piedi libero, continua ad allargarsi e nel registro degli indagati è entrata anche un'altra persona, un assicuratore, i cui uffici, in vita della Croce Rossa, sono stati perquisiti da carabinieri. In procura intanto sono ripresi gli interrogatori per alcuni degli indagati, ai quali viene chiesto di fare luce su un sistema che ha coinvolto politica, o almeno la parte di essa, e il mondo dell'imprendoria. Impegnata nell'attività di messa in sicurezza e ricostruzione posto terremoto. Parliamo ora del caso balneabilità del mare di Pescara. Arriva la risposta del sindaco Marco Alessandrini a seguito dei problemi di salute denunciati da cittadini e turisti affetti da gastroenteriti e dermatiti. Vediamo. Una polemica che divampa sul caso della balneabilità del mare a Pescara. Nell'ultima settimana si sono succedute immagini di persone affette da dermatiti e strane bolle e di notizie su bambini affetti da gastroenteriti. L'accusa ora rivolta alla pubblica amministrazione è quella di aver tenuto nascosta la reale situazione dell'acqua dopo la rottura di una fogna lo scorso 28 luglio. Vanno anche un attimo circostanziate queste cose. Ci dispiace per i ragazzi, i bambini che abbiano avuto questi problemi all'epidermide. Però il dato scientifico è quello che ci conforta. Noi non abbiamo ragione di ritenere che le analisi che ci sottopongono non siano rispondenti al vero. E dunque, legittimamente attestata la validità delle acque, ecco che si è proceduto in avanti. Se il primo cittadino dichiara che le analisi dell'Arta non rilevano inquinamento, dall'altra esce la notizia dell'utilizzo di 350 litri di Oxistrong versato in mare. Una missione di colpa, secondo Fiorilli, che da tempo denunciava il cattivo stato della balneabilità pescara. Quello che dice l'Arta adesso, cioè tardi, conferma proprio quello che abbiamo denunciato, cioè che il mare era inquinato in quei tre giorni, assolutamente tre giorni terribili in cui il bagno non doveva essere fatto, doveva essere messo un diveto di balneazione da parte del Comune, della Capitaneria, degli enti preposti, così non è stato fatto. Il Comune si arranca dicendo che i risultati dell'Arta sono arrivati soltanto tre giorni dopo e poi stranamente le analisi suppletive sono arrivate lo stesso giorno. È chiaro che questa vicenda è molto torbida, è più torbida dell'acqua che abbiamo avuto nel mare. Non può essere così, perché se l'Arta dice che ha versato l'Oxistrong così come è stato per disinquinare l'acqua significa che l'acqua era inquinata, questo mi sembra palese. Su quei tre giorni terribili invece non dice nulla nel Comune e nell'Arta, cosa gravissima perché purtroppo il danno è stato già fatto. Ancora una carcassa di delfino morto, presumibilmente soffocato dalle reti da pesca, recuperata oggi su una spiaggia abruzzese, questa volta in località Valle Vò a Rocca San Giovanni, in provincia di Chieti, dove si è arenato. Il delfino era stato avvistato ieri nella vicina zona Valle Grotta di San Vito Chietino. La vicenda è stata seguita dall'associazione di suborsa minore di Lanciano, che ha avvisato il centro cetacei di Pescara. Al recupero del delfino hanno provveduto gli addetti del Comune di Rocca San Giovanni. Luci e ombre nel rapporto 2014 sul sistema di rifiuti in provincia di Teramo. Cresce la differenziata con punte di eccellenza in alcuni comuni. D'altro canto cresce anche la produzione dei rifiuti e ci sono ancora criticità legate ai consorsi di regione. Vediamo. In provincia di Teramo aumenta la differenziata, ma aumentano anche i rifiuti. È quanto emerge dal rapporto rifiuti elaborato sulla base dei dati del 2014 che hanno consentito di delineare un quadro preciso del sistema integrato dei rifiuti tra luci e ombre. Un elemento positivo riguarda la crescita della raccolta differenziata in tutta la provincia, dove in alcuni comuni si raggiunge quota 80%, ma mediamente ci si attesta attorno al 57,3%, con un più 5,37% rispetto al 2013. Dall'altro lato cresce il volume dei rifiuti prodotti, che segna un aumento di 10.000 tonnellate, passando da 148 a 158.000 tonnellate. Altra criticità è rappresentata dall'impiantistica, che in provincia di Teramo non garantisce l'autosufficienza. Questo significa un aumento dei costi di gestione legati al maggior costo del trasporto del rifiuto che viaggia verso discariche fuori provincia e, di riflesso, un aumento dei costi a carico del cittadino. La risoluzione di questo problema, secondo il presidente della provincia di Teramo, Renzo Di Sabatino, passa attraverso il superamento degli attuali consorsi di gestione dei rifiuti. A questo proposito, il commissario Giovanni Damiani ha annunciato che 60 comuni, che non hanno ancora aderito all'Agir e che ne impediscono il funzionamento, saranno commissariati. Al via i lavori di messa in sicurezza del Borsacchio a Roseto degli Abruzzi. Gli interventi consistono nella realizzazione e rafforzamento degli argini nord e sud nella pulizia del letto del torrente. Assessore, in cosa consistono i lavori? Sì, è una messa in sicurezza tanto attesa e finalmente le ruspe sono in azione da qualche giorno presso il quartiere Borsacchio per la messa in sicurezza definitiva del torrente Borsacchio. Il primo intervento fu realizzato dalla loro aggiunta Catarra nel fine 2011. Questo, grazie ai finanziamenti della stessa aggiunta Catarra e della giunta Chiodi, è stato finalmente realizzato e quindi prevederà un intervento che consiste nella messa in sicurezza degli argini sia al lato nord sia al lato sud, col contestuale allargamento del torrente e quindi per consentire una maggior portata delle acque che scendono dalla collina e quindi è l'occasione finalmente per dare una maggior sicurezza all'intero quartiere. Spesso ci si ricorda tardi di queste iniziative, ci si ricorda non sia la giusta sensibilità, però la sicurezza idraulica del territorio è una nostra priorità e deve continuare ad esserla perché la sicurezza dei cittadini da questo punto di vista viene prima di ogni cosa. Il prossimo 6 agosto a Tortoreto si svolgerà un convegno sulla vongola del medio adriatico e sulla pesca artigianale. Da un lato si parla di 40 anni e questo è l'anniversario raggiunto di una sagra importante proprio dedicata alle vongole, dall'altro il fatto che ora sia diventato complicato, ci sono delle zone assolutamente chiuse proprio a questo tipo di attività e allora in qualche modo si cerca di mediare tra la richiesta degli ambientalisti e le norme europee, ma qual è la posizione della regione? Ma noi abbiamo convocato più volte la consulta regionale sulla pesca e pensiamo che la pesca artigianale sia un giusto compromesso tra le esigenze della marineria e le esigenze degli ambientalisti e della comunità locale. Stiamo ragionando con questo, con il sostegno tecnico-scientifico dell'Istituto Zooprofilattico e dell'ISPRA, quindi del Ministero dell'Ambiente, cercheremo di trovare una posizione condivisa. Ma sì, siamo qui oggi anche per presentare una bella festa del mondo della marineria di Tortoreto e non solo con la presentazione della 40esima sagra della vongola, un appuntamento importante con la vongola, con le vongolari, con i tanti operatori di questo settore. Un convegno a Tortoreto per parlare delle vongole del medio adriatico. In questo caso ci sarà proprio una discussione sul tema. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è portare l'attenzione su questo argomento, sia sulla difficoltà che incontra in questo momento la marineria locale, in quanto, pur essendo la vongola un ottimo prodotto, ha molte difficoltà nella pratica effettiva della pesca, per una serie di limitazioni che vengono sia dall'Europa ma anche da normative sempre più stringenti a livello nazionale e regionale. Poi l'argomento ci interessa molto perché vogliamo aprire un dibattito sulla pesca all'interno di certi ambiti, nel senso che laddove magari è possibile farlo con attrezzature sostenibili, la nostra marineria vorrebbe comunque tentare l'esperimento di pescare all'interno del parco. Chiaramente gli ambientalisti sono contrari, quindi vorremmo portare l'attenzione su queste tematiche che sono molto sentite soprattutto dai nostri vongolari. Si è concluso il corso di formazione per professionisti della riabilitazione, formate 240 nuove figure professionali del territorio regionale, attraverso un progetto sperimentale con docenti di livello internazionale. Un percorso lungo un anno per formare i professionisti della riabilitazione. Lo scorso 31 luglio si è svolto a Mosciano Sant'Angelo l'evento conclusivo del corso sperimentale organizzato dagli enti formativi EFOR, Orienta, SIA, Abruzzo, Lidercop Formazione e San Stefano Molise, quest'ultimo anche partner scientifico del progetto. Il corso Strumenti Innovativi per la Riabilitazione è iniziato più di un anno fa a Roseto degli Abruzzi e ha interessato 240 professionisti abruzzesi impegnati in lezioni teorico-pratiche. Un corso piuttosto complesso e complicato, composto da quattro segmenti, uno sulla diatermia, uno sul biolite e la pedana stabilometrica, il terzo sull'ortottica e il quarto sull'età evolutiva. È stato un lungo cammino che è durato praticamente un anno, con 60 ore di teoria e 60 ore di pratica proprio fatte sul campo, sul lavoro. Il progetto, che ha coinvolto docenti di caratura internazionale, è stata una vera e propria sfida perché sperimentale, come ci spiega Francesca Renzi, coordinatrice del progetto. Oltre all'aspetto formativo abbiamo voluto inserire una fase di training on the job relativa all'affiancamento di questi professionisti durante le loro attività lavorative presso la propria sede di lavoro. Quindi questo ha comportato non solo un investimento di tempo notevole, ma anche e soprattutto un elevato numero di professionisti a disposizione per questi 240 soggetti. Fausto Leali, I Nomadi, James Senese e Tony Esposito sono solo alcuni degli artisti che si esibiranno a Francavilla per la dodicesima edizione del Blue Bar dal 5 al 9 di agosto. Metti una sera d'estate, un palco con artisti dai grandi trascorsi e la voglia di rivivere gli anni d'oro, quelli in cui le gonne facevano la ruota, i puoi imperavano e sulle piste da ballo si faceva rock acrobatico. A Francavilla per 5 serate sarà possibile rivivere atmosfere d'altri tempi, con artisti d'eccezione e la serenità che spesso sfugge nei tempi che corrono. Il Blue Bar presenta la sua dodicesima edizione. Ci sarà una serata iniziale fondamentale per la musica napoletana, per chi ama Napoli, ci sarà il gruppo James Senese Napoli Centrale insieme agli Osanna, con Gianni Sorrenti che è la sorella di Alan Sorrenti, poi un gruppo storico, quello che ha accompagnato Pino Daniele per tutte le sue turnettoni, Esposito, Marangolo, sarà una formazione veramente fantastica, tre ore di musica piena. Poi ci sarà la chiusura della manifestazione invece con i Nomadi, tre ore di spettacolo, fantastico. Poi vi invito calorosamente a venire invece la serata dei Beatles, ci sarà un gruppo che si chiama Beatbox e fanno una sorta di musical. Poi c'è Elliot Murphy, l'ospite americano, c'è veramente tanta, tanta musica e tanta scelta. Poi ci sarà anche un ospite importante, straconosciuto, è Fausto Leali. Sì, e sai perché l'abbiamo invitato quest'anno? Perché lui è stato uno dei pochi italiani a suonare insieme ai Beatles. Nel 1965, durante la tornata dei Beatles in Italia, Fausto Leali c'era e stava sullo stesso palco dei Beatles. Tutto qua. Francavilla si vestirà a festa, la città sarà disseminata di punti tematici, spazi dedicati come la mostra fotografica che ritrae artisti di fama internazionale in scatti inediti e affascinanti. Spazio anche alla beneficenza con una raccolta fondi per l'associazione Augusto per la vita, messa in campo dal Nomadi Fans Club di Pescara. Tentiamo di riportare indietro Francavilla, oltre che con la musica, anche con un'atmosfera particolare, quindi ci si potrà vestire come appunto all'epoca, ci saranno diversi punti, il Pontile ad esempio avrà un suo ruolo nell'intero Blue Bar, l'intera zona insomma verrà riportata agli anni 70 e poi tanta bella musica, il Blue Bar che cresce, ormai è una manifestazione consolidata che fa parte di un'estate altrettanto bella francavillese. Dal 7 al 9 di agosto Affarindola torna all'appuntamento con Pecorino e Pecorini, giunto alla sua ottava edizione. Una chef abruzzese abituata a lavorare in giro per il mondo, un vino osofo, uno chef di uno dei ristoranti più rinomati di Pescara e sette edizioni alle spalle. Inizia così l'edizione 2015 di Pecorino e Pecorini, manifestazione che ogni anno trasforma Affarindola, patria del celebre formaggio, in una esposizione enogastronomica dedicata agli amanti dei sapori d'abruzzo. Abbiamo voluto coinvolgere anche Pescara, un ristorante di mare, quindi Ferraioli, che comunque sta utilizzando il proprio di Affarindola per i suoi piatti. L'evento comunque è legato a questo prodotto che ne fa da punto in riferimento, e soprattutto il vino Pecorino e i vitigni abruzzesi di questo buon vino. Contaminazioni internazionali per un prodotto, il Pecorino, che dimostra di saper coniugare e conciliare i sapori inaspettati, guadagnandosi il lignaggio di Nobile accanto ai più rinomati cugini d'oltrealpe. Assolutamente sì, questo è uno dei miei scopi principali, anche perché io nasco come cuoca, come chef sicuramente, di un territorio che è l'Abruzzo. Portare il mio territorio e comunque portare me stessa, quindi io cucino sempre con i prodotti della mia regione, perché il mio modo di cucinare è quello. Chiaramente innovo tantissimo, c'è tanta contaminazione con tante spezie del mondo, quindi anche la bellezza di poter fare un lavoro in freelance significa proprio il contaminare la propria cucina, con la cucina anche degli altri colleghi e delle altre parti del mondo. Infine il vino come esperienza sensoriale raccontata, analizzata e spiegata da un coltore che riunisce conoscenza e filosofia, un vinosofo. L'abbenamento qui è d'obbligo, è il pecorino vino con il pecorino formaggio, il pecorino di farindola che è veramente secondo me qualcosa di eccezionale, di speciale da tutti i punti di vista, cioè dal punto di vista del gusto, della qualità, dell'interesse alimentare per chi ha problemi di intolleranze, celiachie eccetera, quindi è un connubio veramente molto molto interessante. E dal pecorino e i pecorini al prosciutto, è la sagra famosissima di Basciano, è anche molto longeva, una sagra che tornerà dal 5 al 9 di agosto. Dal 5 al 9 agosto Basciano tornerà ad animarsi con la storica Kermes dedicata al prosciutto abruzzese. Siamo alla 48esima edizione, inizierà proprio domani alle 18 e a me mi piace chiamarla aspettando il 50esimo, che mancano due anni per il 50esimo, che dovrà essere una festa memorabile. Comunque anche adesso, anche queste altre edizioni sono sempre memorabili perché Basciano è una sagra, la sagra del prosciutto è una sagra che attira molte persone, è un alimento ottimo, il costo è abbastanza contenuto e poi c'è la caratteristica che viene servito ai tavoli, una cosa unica in tutto l'ambito delle sagre che si svolgono nel nostro territorio. La sagra quest'anno, giunta alla 48esima edizione, vede un ricco programma di spettacoli, musica folk itinerante, concerti, sfilata dei carri allegorici, collettiva di pittura, la mostra di Merletti e il tradizionale appuntamento con il Festival dell'Organetto. Abbiamo il piacere di ospitare ogni anno almeno, diciamo, circa da 50 a 60, soprattutto ragazzi, il che ci onora ancora di più perché vuol dire che è uno strumento che ha ancora sentito, tra i vincitori del Festival, l'annumeriamo tanti, tanti campioni mondiali dell'estrumento. E poi abbiamo il solito prosciutto, che anche questo è la 48esima sagra, ci siamo dati come impegno solo prosciutti italiani, di animali nati, cresciuti e allevati in Italia, con almeno 18 mesi di stagionatura. Ed ora la pagina sportiva, la giornata di oggi è stata contrassegnata dal Consiglio federale che ha ufficializzato il ripescaggio in Serie B del Brescia, che prende il posto del Parma, mentre in Lega Pro ufficializzati i ripescaggi di Albinole F e Pordenone. Sempre per quanto riguarda la Lega Pro, resta da definire l'organico in attesa della mancata iscrizione della società del Castiglione. Poi sempre dal Consiglio federale un'altra novità particolare che riguarda le squalifiche per recidività di ammunizione. Ebbene, le squalifiche da quest'anno partiranno dopo la quinta ammunizione e non più, come era fino allo scorso anno, dopo la quarta ammunizione. E poi successivamente dopo altri cinque cartellini gialli. Quindi questa è un'altra novità che viene fuori dal punto di vista regolamentare che viene fuori dal Consiglio federale di quest'oggi che si è tenuto alle ore 13. Per quanto riguarda il Pescara, se ne era già parlato nello scorso fine settimana, ma ora c'è l'ufficialità. Valerio Verre e Alessandro Crescenzi sono due nuovi giocatori appunto del Pescara. Entrambi i calciatori arrivano in prestito con diritto di riscatto e controriscatto per quanto riguarda Verre nei confronti dell'Udinese, per quanto riguarda Crescenzi nei confronti della Roma. E ora andiamo ad ascoltare uno dei volti nuovi dell'attacco del Pescara, l'ex taramano Gianluca Lapadula. Gianluca Lapadula, primo gol col Pescara allo Stadio Adriatico. Il sapore è quello particolare? Beh, sicuramente è sempre molto bello per un attaccante far gol, però stasera più che per il gol sono un po' più rammaricato per il secondo gol che mi sono mangiato di testa, quindi come dico sempre c'è tanto da lavorare, per carità siamo a buon punto, però c'è sempre da migliorare. Rispetto alle precedenti esibizioni, questa sera avete incontrato una squadra di Serie A e abbiamo visto un Gianluca Lapadula nettamente migliorato. Probabilmente, anzi sicuramente, queste partite regalano anche stimoli diversi. Un professionista deve sempre comunque dare il massimo, indipendentemente dall'avversario che è davanti, però oggi sicuramente dopo 20 giorni di lavoro posso dire che sto anch'io entrando in campo in forma con le gambe che iniziano a girare, però abbiamo ancora una settimana importante, domenica abbiamo la prima partita ufficiale, quindi ci siamo, però possiamo ancora migliorare. Io ho firmato quattro anni a Pescara, poi se il Pescara ha in mente di girarmi, io non lo so, io sto dando il massimo per il Pescara che mi ha regalato una grandissima occasione di giocare in una società così importante, voglio assolutamente sfruttarla perché è una piazza importante e poi vedremo, io sto alla grande Pescara. Vi danno fastidio, se così possiamo dire, queste voci che parlano di un interessamento del Pescara per un altro attaccante? Benvenga, più la squadra è competitiva più può ambire a obiettivi più importanti, quindi benvenga Falcinelli o chi ci sia da prendere, un altro attaccante, però più giocatori forti ci sono meglio è. Parliamo di calcio giocato, Gianluca Lapadula in questo Pescara, nel Pescara di Massimodo, in questo modulo come si trova? Il mister mi sta dando una grossa mano con i movimenti, con gli altri mister che mi sta dando una mano anche loro, è un modo diverso da quello di Vivarini, però posso adattarmi molto bene, quando le cose si vogliono si possono completare sempre. Pescara che domenica giocherà contro il Sud Tirol di Stroop alle 20.45 all'Atletico Cornacchia, sarà la prima gara ufficiale stagionale per il secondo turno di Team Cup, domenica prossima in campo anche la Virtus lanciano alle 20.30 al Biondi contro la Juve Stabia, sempre per il secondo turno di Team Cup, è un momento sempre di grandi manovre sul fronte mercato per la Virtus che ieri ha ufficializzato l'attaccante Rozzi e il centrocampista Crecco, in uscita l'attaccante De Feo che è finito al Siena, ma restano da risolvere i nodi legati al portiere e al difensore centrale. Vediamo. La Virtus lanciano mette a segno due colpi, per il centrocampo arriva Luca Crecco, per l'attacco Antonio Rozzi, entrambi provenienza Lazio, entrambi con la medesima formula, prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Crecco, classe 95, viene da un'importante stagione con la maglia della Ternana, nella quale ha confermato di essere un importante prospetto. Tanti ancora i margini di miglioramento per un calciatore che in frentagna può trovare l'ambiente idoneo per crescere, ideale per ricoprire il ruolo di mezzala, sarà un rinforzo per la rotazione del ruolo con i vari Di Cecco, Vastola e Paghera. Quest'ultimo anche alternativo a Bacinovic come regista della squadra. Antonio Rozzi, classe 94, è un attaccante mancino e può giocare sia esterno che centrale. Lanciano dovrà essere tappa di rilancio dopo le poco positive esperienze con Bari e Dentella. Restano altri nodi di mercato, i principali sono quelli del portiere e del difensore centrale. Sta subendo qualche intoppo di troppo la trattativa con il Cagliari per il prestito di Alessio Cragno. L'ex Bresciano resta obiettivo numero uno, ma ora il DS Leone comincia a guardare anche altrove. Ed ecco spuntare il nome di Alberto Pomini del Sassuolo. L'esperto portiere è chiuso da consigli e pegolo e potrebbe trovare spazio e presenza in maglia Virtus. Il difensore centrale è diventato priorità dopo l'addio di Magnus Tröst, che non è andato giù al tecnico da versa, il quale perde un elemento di rara affidabilità ed esperienza. Per la sua sostituzione la Virtus ha chiesto al Milan il colombiano classe 94 Gerson Vergara lo scorso anno ad Avellino, elemento di grande prospettiva ma che non ha ancora l'esperienza del danese. Ma la traccia è segnata, la società punta forte sui contributi per il minutaggio e l'interessamento e poi tesseramento di tanti atleti classe 94 e 95 lo conferma alla vecchia guardia il compito di aiutare da versa a plasmare il giovane gruppo. Teramo che è tornato questo pomeriggio al lavoro dopo aver chiuso domenica la prima parte del ritiro pre-campionato a Rivisondoli. Teramo che tornerà in campo giovedì sera allo stadio dei Marsi di Avezzano proprio contro la locale formazione. Sarà una gara amichevole. Poi domenica alle ore 19 al Bonolis per il secondo turno di Team Cup Teramo-Cittadella. Anche in questo caso si parla di debutto ufficiale per il Teramo. Intanto andiamo a conoscere il centrocampista Calvano che è arrivato lo scorso weekend proprio nella rosa del tecnico Vivarini. Simone Calvano possiamo dire che era una sorta di promesso sposo del Teramo perché il tuo nome è circolato per diverse sessioni di mercato. Beh sì, già a gennaio dell'anno scorso mi ero sentito con la società che voleva prendermi e ho preferito comunque concludere l'anno a Pistoia per poi ritrovarci qui a luglio. Poi sono venuto qui appunto perché la società mi voleva già da gennaio poi ci siamo continuati a sentire e quindi ora sono qui e speriamo di fare bene. Senti, quali sono le tue caratteristiche? Io sono una mezzala che sa difendere e sa anche all'occorrenza attaccare. Poi il mister ho visto subito nei primi giorni che vuole molta corsa da parte nostra e quindi quest'anno ci sarà da divertirsi. Non è la tua prima esperienza in Abruzzo perché hai già giocato a Lanciano? Sì, ho fatto sei mesi a Lanciano dove ho trovato poco spazio ma appunto per questo sono ancora più motivato per riuscire a completare comunque un campionato importante come la Serie B. Per gran parte dello scorso campionato era la Pistoia e se la squadra aver dato la punizione più pesante sul campo al Teramo quanti di questi giocatori conosci? Vabbè, loro li conosco quasi tutti perché comunque l'anno scorso eravamo nello stesso girone nostro e vabbè, l'anno scorso poi dopo il 4-1 a Pistoia mi sembra che non l'hanno più perso Poi Prato Poi sì, Prato e gli è andata male ma nello stesso tempo è andata bene hanno fatto un campionato perfetto e ora siamo qua a sperare di giocarci la Serie B. Senti, chiaramente l'esperienza di Lanciano ti ha visto poco protagonista ed è inevitabile ora la B abruzzese a Teramo assume benalti condosati per te una grande opportunità. No, sì, beh, questo sì a Lanciano ho avuto, appunto, ripeto, poco spazio per dimostrare quelle che sono le mie qualità spero che qui, quest'anno, riuscirò a dare una mano alla squadra per raggiungere un obiettivo che tutti ci siamo prefissati È tutto per il TG6 grazie per l'attenzione e buona serata Grazie per la visione